In linea con i tempi che ci siamo dati, si avvia la riforma sulla disabilità che l'Italia sta attuando e che rivoluzionerà la presa in carico della persona con disabilità. Il Ministero per le Disabilità ha già predisposto tutti i decreti attuativi per l'introduzione del progetto di vita e il Ministero della Salute sta ultimando gli schemi di valutazione per le prime tre patologie che, ha stabilito, saranno oggetto della sperimentazione sulla valutazione dell'invalidità civile, autismo, diabete di tipo 2 e sclerosi multipla. Così il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Si tratta di un percorso molto impegnativo che innova profondamente i modelli di valutazione e di presa in carico della persona con disabilità e della sua famiglia. È un percorso complesso che richiede tempo, ma il cambiamento è iniziato e non si ferma. Questa è l'opportunità che abbiamo per garantire alle persone con disabilità e alle loro famiglie la semplificazione delle procedure, una valutazione della condizione di disabilità e di invalidità che tenga conto del funzionamento della persona, il superamento della frammentazione tra risposte sanitarie e sociali attraverso il progetto di vita e maggiore ascolta e dignità nell'individuazione dei sostegni. Il nuovo modello di valutazione riguarderà chi farà domanda di accertamento della condizione di disabilità e di invalidità a partire dal 1 gennaio 2025 nelle 9 province individuate per la sperimentazione. Grazie. 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 Grazie.